E' andata un primo blocco di 10.000 imprese su 17.000 domande e il contributo a fondo perduto nell'ambito della misura Riapri Calabria. Lo rendono noto la Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, e l'Assessore delle Attività Economiche e Al Lavoro, Fausto Orso Marso, che hanno evidenziato il successo della sperimentazione della nuova piattaforma informatica, che ha consentito di gestire in maniera efficiente il consistente numero di domande ricevute e di dare sostegno immediato alle piccole aziende che hanno subito pesanti ripercussioni a seguito della sospensione dell'attività per l'emergenza Covid-19. Sono arrivate circa 17.000 richieste. Di queste 17.000 oggi abbiamo finalmente deliberato la Commissione le prime 10.000 e oggi sono state pagate le prime 1.000 domande. Quindi dal 29 l'8 di giugno si è chiusa la procedura con il caricamento degli ultimi documenti. Mi danno i dati, su queste 17.000 domande circa 1.600 hanno delle criticità, perché abbiamo anche fatto un controllo per evitare che poi i fondi dovesse essere restituiti, anche questo velocemente, perché lì dove manca il documento di identità che è sbagliato pensiamo possa essere corretto, quindi finita la valutazione anche le 1.600 domande che presentano criticità, tra queste purtroppo c'erano anche codice ateico che non rientravano nel finanziamento, però la buona notizia è che oggi paghiamo le prime 1.000 domande di contributo del Riapri Calabria. Cioè 2.000 euro ad impresa, ristoranti, parrucchieri, tutte le categorie chiuse, commercianti, ambulanti, sono tutti quelli che rientravano in questa misura straordinaria.